Ciao, io sono Nadia, benvenuti su questo nuovo video della Degustabox di maggio 2021. Apriamola insieme! Se non sapete come funziona, vi ricordo di andare a vedere il video di febbraio dove all'inizio spiego tutto, come funziona, cosa si trova più o meno all'interno e quanto costa. E vi ricordo che ci sarà il mio codice sconto in descrizione, così potrete usufruirlo per provare la vostra prima box scontata. Bene, apriamola insieme, ma non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, mettere un like a questo video se è di vostro gradimento e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Come al solito troviamo i volantini che ci mettono dentro, dove c'è il resoconto dei prodotti di maggio, con prezzi che si trovano in commercio, poi di solito troviamo questo volantino della Degusta Box Selection e oggi c'è anche questo volantino della Sole Cura Lavatrice. Allora, andiamo a vedere insieme che cosa troviamo. Ci sono dei grappa verdi, in questo caso sono le sfoglie cotte al forno di mais senza olio di palma, quindi tipo dei cracker che vanno benissimo con degli spalmabili come spuntini. Poi troviamo il pane in cassetta di Morato, American Texas Toast, solo con olio di oliva. Poi c'è un succo della Sant'Alle all'arancia rossa senza zuccheri aggiunti. Poi c'è un pacchetto di Daigum Insta White, sorriso più bianco. Poi troviamo questi pick-up Choco Milk biscotti. Beh, questi probabilmente li conoscerete già, almeno io li avevo già visti. Poi abbiamo questo, ecco questo per esempio non l'avevo mai visto, di Madame Olive, patè di olive, in questo formato no, io non l'avevo mai visto. Curioso. Poi c'è una bottiglietta di Estatè Infusion Mix, vero infuso di foglie di tè, e questo è tè nero, zenzero e limone. Vediamo che cos'altro c'è. Una barretta biofrutto con frutta morbida, in questo caso albicocca, senza glutine, alto contenuto di fibre. Continuiamo con un altro Estatè Infusion Mix, questa volta è tè nero, salvia e agrumi. Curioso anche questo. Poi troviamo, ecco perché c'era quel volantino. Cura lavatrice express, igienizzante, con essenza di eucalipto. E forse è la prima volta che troviamo queste cose, di solito è sempre alimenti, bevande. Interessante. Elimina i cattivi odori, efficace in cicli brevi e a basse temperature. da usare una volta al mese. Proveremo. Poi abbiamo un vasetto di sugo semplice, con pomodoro d'atterino, della Mutti. Vediamo qui. Wow, una bella birra, Kozel. Beh, direi tedesca. Vediamo. Prodotte confezionate a birra Peroni a Padova. Non lo so, però del nome. Il tonno. Tutto tonno. All'olio di oliva. Due scatolette. Vediamo ancora. Ho delle brioche della Bauli. Sette cereali e semi. Con zucchero di canna. Anche questo, interessanti. Ok, come al solito abbiamo visto insieme cosa c'era nella degustabox di maggio. Direi anche qui comunque cose che... Interessanti. Sempre simpatiche, curiose, da provare. Che magari uno, se non le trovasse qui, non ti viene neanche in mente di provarle. Proveremo un po' tutto. Anche questa cosa credo sia tipo una novità. Vediamo se sul volantino dice qualcos'altro. La tua lavatrice è veramente pulita e igienizzata? Sì, dai. Proveremo anche questo. E qui, come vi dicevo prima, trovate tutti i prezzi che si trovano in commercio. Invece noi, avendoli trovati qui, abbiamo pagato molto meno. Possiamo provare, diciamo, questi nuovi prodotti ad un prezzo più basso del valore reale. Bene, spero che anche questa degustabox aperta con me vi sia piaciuta. Ci vediamo il prossimo mese. Ricordatevi di lasciarci un like. Ciao! 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 Ciao!